Il Governo nazionale, targato Lega e 5 Stelle, blocca le assunzioni nella regione siciliana ed alcune promozioni interne. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato infatti 15 norme della legge finanziaria varata dall'Ars lo scorso mese di aprile. Tra le norme bocciate, quella che consentiva una serie di assunzioni nelle società partecipate, a partire proprio dalla stabilizzazione del bacino dei circa 3.000 pip. Stop anche alle promozioni interne e alle norme sui prepensionamenti dei regionali, perché, secondo il Governo Conte, queste norme sarebbero in contrasto con le leggi nazionali. Impugnati anche i contributi a pioggia erogati tramite la revisione dei fondi del patto di azione e coesione. A questo punto, 5 Stelle chiedono le dimissioni dell'assessore all'economia Gaetano Armao. Ed eccolo qua il capolavoro firmato Musumeci Armao, quando dicevamo in commissione in aula che la finanziaria era infarcita di errori macroscopici che sarebbero certamente stati impugnati. Lo dicevamo a ragion veduta, se questi sono gli esperti della politica, gli stessi cioè che in un recente passato hanno creato i disastri che ben conosciamo, allora la Sicilia è condannata a nero su bianco, parola di Consiglio dei Ministri. A dichiararlo sono la capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Valentina Zafarana, e il Vice Presidente dell'Assemblea Giancarlo Cancelleri, componente della Commissione Bilancio. Qualche ora fa, spiegano i due deputati, abbiamo letto basiti le dichiarazioni di Armao sul fatto che il Consiglio ha impugnato le manovre volute dai deputati. Armao non è soltanto tecnicamente incapace, ma anche disonesto intellettualmente, perché tra le norme impugnate ci sono provvedimenti che portano la firma del governo regionale. L'unica cosa da fare adesso per Musumeci è mettere alla porta Armao, che oltre ad essere il re dei conflitti di interesse in Sicilia, vedasi caso riscossione, primamente sulla trattativa con Roma, venendo immediatamente sbugiardato dal ragioniere di Stato, e poi si fa impugnare mezza finanziaria a sua firma. Solo Musumeci è riuscito a fare addirittura peggio di crocetta.